Finanza personale e risparmio. In questo video andiamo a vedere esattamente i metodi che utilizzo personalmente per gestire il mio denaro e soprattutto per investirlo in futuro. E benvenuti gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovissimo video e decisamente importante sulla finanza personale, su come risparmiare, gestire e poi investire il proprio denaro che si è generato con tanta fatica e tanto sudore che giustamente non va sperperato. Ma forced in forced prima di tutto un bel mi piace sotto questo video in questo momento per caricare l'algoritmo di YouTube al massimo e soprattutto iscriviti al canale proprio adesso in questo momento se non l'hai ancora fatto e attiva la campanellina delle notifiche per ricevere aggiornamenti futuri sui prossimi video bomba che usciranno. Quindi partiamo subito finanza personale. Innanzitutto tralasciando il fatto che la società, le scuole, l'università non ti insegnano assolutamente nulla di finanza personale e gestione del denaro iniziamo col dire che prima di tutto devi saper generare denaro. Quindi tralasciando tutto questo la cosa più importante in assoluto per quanto riguarda la finanza personale è prima di tutto guadagnare. Ragazzi se voi non guadagnate sembra un discorso molto stupido ma non lo è. Prima di tutto dovete imparare a guadagnare possibilmente online perché avete molti più vantaggi ma in generale le persone non capiscono che se tu hai, intendo guadagnare molto di più, se tu hai uno stipendio medio di 1500 euro, 2000 euro ok? Molto probabilmente magari tu hai la casa, ok? Non paghi le bollette eccetera eccetera non so la tua situazione specifica ma tantissime persone soprattutto con un stipendio normale non riescono a risparmiare oltre al fatto che hanno le mani tra virgolette bucate non riescono a risparmiare perché spendono tutto quello che hanno in principalmente per sopravvivere ok? Quindi tu sopravvivendo e spendendo tutto quello che hai non può assolutamente permetterti di risparmiare perché quindi in parole semplici se tu sei costretto o costretta a spendere tutto quello che guadagni mensilmente in beni di prima necessità ovviamente non hai la possibilità di risparmiare tanto ok? Magari 100, 200, 300 euro al mese è già qualcosa sicuramente se quello è il tuo stipendio e ti riesce di salvare qualcosa va benissimo all'inizio comunque hai bisogno prima di tutto di un'entrata extra se è possibile più entrate extra per ovviamente incrementare il tuo bacino di entrate ok? Perché devi assolutamente cercare di guadagnare di più non è un discorso stupido ragazzi è il primo step ripeto questo è il primo step in assoluto per raggiungere la libertà finanziaria attraverso la cultura proprio lo sviluppo della finanza personale ora tutti gli altri metodi per guadagnare online li trovate sul mio canale su montanabusinessonline.com ma quello che dovete capire è che avendo uno stipendio fisso avendo comunque un'entrata fissa non parlo solamente uno stipendio magari da un lavoro ma in generale un'entrata fissa che è molto vicina alle spese di sopravvivenza ragazzi è quasi non dico impossibile però è molto più difficile ovviamente risparmiare per poi reinvestire quel denaro ora passiamo a livello successivo ovvero una volta che voi avete magari un tesoretto di 1000 euro al mese ma una volta che abbiamo questi soldi ok stiamo guadagnando abbiamo più entrate come possiamo non sprecare tutto questo denaro è molto semplice ci praticamente stabiliamo automaticamente autonomamente delle regole che non possono essere veramente sono sacre non possono essere infrante in quanto quelle regole ti permetteranno di risparmiare saranno veramente la base della tua finanza personale ora prima regola in assoluto bisogna sempre mettere da parte almeno non dico un terzo magari un quinto un quarto di tutto quello che guadagnate ok lo mettete da parte proprio aprite un altro conto un conto online magari n 26 i revolut questi conti online qui che sono comunque conti affidabili n 26 comunque una banca sono comunque conti che non dovete toccare ok ci sono addirittura certe app adesso non mi viene in mente il nome ma ci sono addirittura certi conti online che ti creano il penso proprio revolut ti creano proprio una specie di conto una specie di salvadanaio di piccola cassetta di sicurezza dentro l'applicazione proprio del vostro smartphone che ti permette di salvare quel denaro e non toccarlo ok potete toccarlo ovviamente il vostro ma potete toccarlo solamente seguito a delle regole predeterminate che stabilirete voi ora perché ci serve questa cosa per salvare denaro risparmiare e comunque aumentare il nostro tesoretto perché inevitabilmente la maggior parte delle persone non essendo abituate a risparmiare e invece essendo abituate a spendere tutto quello che hanno in cavolate ok la maggior parte volte sono cavolate come per esempio vi piacciono quelle quel paio di scarpe costano non so mille euro e tutto tutti i soldi risparmiati magari negli scorsi tre mesi se ne vanno in scarpe per esempio magari un nuovo iphone ok moltissime persone tantissime se non la maggior parte delle persone comprano iphone da mille duemila euro e successivamente si ritrovano senza soldi ma sono felici e contenti perché sentono hanno questa necessità di comprare articoli di lusso cose del genere che però il problema principale non è tanto ovviamente il problema principale è che spendete tutti i vostri soldi risparmiati che dovreste investire ma che quel oggetto o quell'iphone quelle scarpe non ti generano ricchezza anzi semplicemente ti fanno perdere ricchezza tu comprando quelle cose sei meno ricco e di conseguenza tu quei soldi li hai persi ok si lo puoi rivendere eccetera eccetera però il concetto chiave è che quell'oggetto non è in grado di generare quell'entrata che tu hai bisogno di ricevere in maniera costante ok quindi non è un business non è niente ragazzi state solamente buttando soldi per qualcosa che in verità neanche vi serve non vi serve per sopravvivere non vi serve per sopravvivere non vi serve a niente di reale di concreto magari sì per farvi fighi o cose del genere con l'iphone nuovo eccetera eccetera però state semplicemente andando contro l'insegnamento base della finanza personale quindi poi se voi vi ritrovate un giorno senza una lira vi ritrovate ad essere costretti a vendere il proprio iphone cioè il vostro iphone il tuo iphone perché hai finito tutti i soldi e magari hai fatto un incidente con la macchina e devi per forza riparare la macchina perché senza la macchina non vai al lavoro a quel punto capirai veramente perché devi risparmiare esempio pratico ok voi avete l'iphone tutti contenti 1000 euro 1500 fate per esempio un incidente con la macchina e la macchina vi serve per andare al lavoro cosa fate siete costretti dato che non avete risparmi perché avete spesi tutti gli scorsi tre mesi per l'iphone ovviamente siete costretti a vendere l'iphone a un prezzo minore e riparare la macchina a quel punto sicuramente la storia l'avete capita ma perché non capirla prima perché ragazzi queste cose succedono e succederanno non è che viviamo nel mondo perfetto delle favole dove non succede niente tutto a posto soprattutto succederà perché succederà ma non deve succedere per forza quindi possiamo evitare tutto questo semplicemente salvando un po di denaro ogni singolo mese ok come un salvadanaio andate lì e fate un bonifico salvate il denaro mese dopo un mese e vi accorgerete che riuscendo a risparmiare quella entrata ogni singolo mese capirete veramente quanto sarete più ricchi ok già dopo un anno ragazzi dopo un anno riuscite a salvare in base ovviamente dipende quanto guadagnate quanto riuscite a salvare ma vi assicuro che già dopo un anno riuscite a salvare abbastanza per iniziare un business come per esempio e commerce drop shipping quello che volete un business online che veramente vi farà fare il salto di qualità per quanto riguarda la finanza personale e la libertà finanziaria quindi non essere più legati al posto di lavoro non essere più legati a un capo o una vita un lavoro che non sopportate ma semplicemente fare quello che volete dato che avete un business vostro potete gestirlo da casa da qualsiasi parte del mondo dalla spiaggia di bali quello che volete ok quindi questo ragionamento che dovete fare subito fin da adesso ogni singolo mese metterla un terzo un quarto un quinto in base ovviamente vostre esigenze e non sprecata assolutamente soldi per cavolate che non vi servono ok state lì state davanti al negozio scarpe davanti al negozio dell'apple vedete l'iPhone lo volete dite ok ho questo telefono funziona mi serve veramente per guadagnare di più questo telefono mi serve essenzialmente per migliorare la mia vita in maniera proporzionale ai guadagni oppure no questa è la domanda che devi porti ogni volta che stai spendendo più denaro di quello che dovresti ovviamente ragazzi è proporzionale a quanto guadagnate quanto spendete ovviamente se avete un lavoro da 1000 euro al mese dovete pagare l'affitto le bollette da mangiare sicuramente vi rimarrà praticamente niente in italia considerando poi in generale dove vivete Milano magari costa di più rispetto ad altre città ovviamente Milano e Roma costano di più però avete capito il ragionamento mi raccomando non sprecate soldi incavolate non è un discorso che sto facendo così perché la maggior parte della gente si ritrova senza una lira esattamente per questa ragione perché spreca soldi per le cavolate più assurde senza che veramente ne abbiano bisogno quindi ragazzi se voi veramente volete cambiare la vostra vita dovete iniziare a cambiare voi stessi e il vostro stile di vita ok lasciate fuori tutto ciò che non vi serve non solo oggetti parlo anche di persone ma questo è un argomento di sarà un argomento di un altro video sicuramente il primo step è liberarsi di oggetti o di desideri che non ci servono direttamente non ci fanno guadagnare direttamente a noi ora con i soldi che abbiamo risparmiato che cosa ci facciamo abbiamo diverse opzioni prima di tutto se riusciamo a ottenere un bel gruzzoletto sicuramente la migliore opzione possibile immaginabile è investire quel denaro in un business proprio in modo tale da generare entrate sempre più grandi effetto palla di neve effetto compound proprio come succede nel trading online non investimento in stock market che adesso andiamo andiamo a spiegare però il discorso è molto semplice la miglior via in assoluto per il miglior modo in assoluto per veramente essere liberi finanziariamente è avere un business proprio che in genera entrate possibilmente automatiche automatizzate il famoso passive income che in verità ragazzi esiste però sicuramente non all'inizio se non avete soldi o magari avete iniziato un business sicuramente all'inizio ragazzi la strada sarà sempre in salita però piano piano la salita diventerà sempre più facile da superare ragazzi questo è un altro discorso di mindset che andremo a riprendere un altro video tuttavia business sicuramente opzione migliore business online potete iniziare a vendere oggetti online comunque fare qualcosa online per capire come funziona investire oppure potete anche tenere i soldi lì ok tenete in banca e cosa succede se rimango in banca si c'è un effetto tra virgolette dell'inflazione che ti fa perdere denaro ovviamente con il tempo c'è l'inflazione che si ti fa tra virgolette diventare più povero nel senso che un milione di euro oggi varrà sicuramente di più rispetto a un milione di euro fra dieci anni ok proprio a colpa di inflazione però c'è da dire che quei soldi sono tra virgolette sicuri non andranno da nessuna parte ovviamente deve essere una banca comunque un conto affidabile il materasso non è il massimo se ne mettete i soldi sotto il materasso non è il massimo della vita soprattutto con l'andazzo che c'è adesso per quanto riguarda i contanti cercheranno sempre più di generare entrate transazioni tutto online perché vogliono sempre più controllare le persone i conti soldi quindi sicuramente stiamo andando in una direzione sempre più online soprattutto per quanto riguarda le transazioni monetarie tuttavia dobbiamo sempre prendere in considerazione che lasciando i soldi lì andranno a perdere di valore ora si può lasciare i soldi in banca senza investirli assolutamente sì diciamo una specie di assicurazione per quanto riguarda il vostro denaro rispetto a adesso andremo a vedere le fluttuazioni dello stock market o magari dell'oro che sta conoscendo e tu non sai al 100% cosa succederà quindi è una mossa intelligente risparmiare e lasciare tutti i soldi in banca senza toccarli assolutamente sì ovviamente c'è sempre l'inflazione da considerare però la possiamo definire come un'assicurazione sulla sicurezza che il nostro denaro starà lì fra dieci anni lascio un milione tra dieci anni ho sempre quel milione varrà un po di meno però so che ci sarà un milione ok quindi ricapitolando e ritornando al discorso dell'investimento se invece terza opzione vogliamo investire in stock market oppure in oro o in altri magari bitcoin cripto cose del genere vogliamo investire in trading online a quel punto c'è il discorso del rischio di investimento ok proprio puro dello stock market che la maggior parte delle persone magari teme perché non conosce tuttavia ci sono metodi diciamo tra virgolette quasi al 100% per guadagnare di più in maniera passiva tramite interesse taglia tramite famosissimo interesse composto vero effetto compound ok che cos'è questo effetto compound interesse composto semplicemente è un metodo di investimento che ci permette di guadagnare ogni singolo anno almeno del 10% ok andremo a riprendere questo argomento in maniera più specifica in altri video tuttavia basta sapere che da quando è nata la borsa ok bitcoin cripto e cose del genere sono molto più recenti molto più instabili senza regole non hanno avuto un andamento sempre a salire quindi è un discorso che facciamo a parte parliamo dello stock market nel caso dello stock market quindi della borsa investimento in azioni indici etfs cose del genere in quel caso la borsa è sempre salita da quando è stata creata ok quindi sono decine di anni che la borsa ogni 10 anni ogni anno anche è sempre in salita ok fa così quindi ovviamente ci sono alti e bassi però nell'arco dell'anno quindi del medio lungo termine anzi diciamo proprio lungo termine sicuramente va sempre in alto ok questo è un dato che proprio ha registrato basta che andate a vedere lo storico della borsa del sp 500 del nasdaq 100 del dow jones 30 l'esp 500 questi altri che ho appena nominato per chi non conoscesse sono degli indici che raffigurano rappresentano tutte le principali aziende americane quindi la borsa vera e impropria che sp 500 sono le prime 500 aziende americane ok quindi le 500 aziende americane che vengono rappresentate proprio da questo indice che prende praticamente un po di tutte 500 quindi rappresenta l'andamento generale del mercato che va a salire ok quindi quasi sicuramente adesso ragazzi anzi diciamo che storicamente è sicuro che se tu lasci i soldi lì investi in maniera non azienda per azienda ma in maniera come standard e post oppure nasdaq cose del genere quindi in indici investimento generale diciamo non azienda per azienda diciamo al 100% tra virgolette il tuo capitale salirà nel corso degli anni ok questa è una cosa che molti non hanno capito che a differenza del day trading quindi giorno per giorno noi andiamo a investire nel lungo periodo e con effetto compound noi diventeremo sempre più ricchi perché quel 10% si andrà a sommare se non vestiamo mensilmente ancora di più si andrà a sommare al capitale guadagnato il mese prima o l'anno prima ok è un discorso matematico ragazzi con il presupposto che ogni anno la borsa se non investiamo ovviamente in etf o in stock tipo in indici tipo sp500 la borsa sale sempre del 10% quindi sotto questo presupposto considerando questa nota principale noi sappiamo che possiamo investire con sicurezza ok ora questo non è un consiglio in questo video non stiamo considerando niente su investimento e cose del genere però è così basta studiare un po' che la borsa funziona e come funziona in generale il mondo della finanza personale dei investimenti e del risparmio quindi ragazzi ovviamente prendete le vostre decisioni con cautela perché con i vostri soldi i vostri risparmi non dovete assolutamente scherzare e giocare è una cosa seria ragazzi è la vita reale quindi studiate non fate le cose a caso per qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi tipo di cosa nella vita reale nel business e commerce tutto ragazzi non dovete fare le cose a caso io spero questo video vi sia stato utile se hai una domanda se non hai capito esattamente un meccanismo che cosa fare con i soldi risparmiati come risparmiarli qualsiasi tipo di domanda me la fai qui sotto nella sezione commenti e andrò a rispondere personalmente a qualsiasi tua domanda se non ti sei ancora iscritto al canale fallo adesso qui sotto iscriviti attiva la campanellina delle notifiche e metti un bel mi piace ci vediamo al prossimo video che ti metto proprio qui alla mia sinistra mi raccomando un abbraccio un saluto e al prossimo video